Buongiorno a Dona Santo 2017 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 Buongiorno a Dona Santo 2018 Dona invece questa parte del territorio sul comune di Domunosa, qui sul comune di Domunosa si impegnano a donare i servizi sui abitanti, che in cui traballano il servizio che vinceremo sul comune di Cresa non usare mai donare. Scusa la variante andando bene, ma qui non è, anzi, che si era prima o vincere questo dialogo che ci è stato in tre due amministrazioni, quindi si può gussi su noi dei mesi iras a chieni ripari chi ci si era una manifestazione, in Castello può pregontare vincere se si intervento una traborda dei sassessori ai sentisi locali di Cristiano e Rio. Cortoghiana, sa fortuna, l'Ompiri in Cortoghiana, sa buona sorte, arriviamo uno giocatore di Cortoghiana che in su bar Pili in Viale Savoia, a rigiogare una schedina e poi vagono un piccara su Sesi, ma già i centrendi su Ginkus è posto in Bucciacca, 23 mila euro su Anonima, si identitari di Saffortunau su Jackpot Gresci in Paglio, e ora tocca i suesi in Bessirasa Benidora, sa c'è punti 64 milioni e mezzo di euro. Sant'Oni Suergio è un arresto di un uomini di 52 anni su De Carbonia, da vettanta in caserma, come in te Donia Divo, a Savrimano, a Biu, a Lompendi, a Pustisi, a Scala Benidisi, a Dante Circao, a Gattao, Sant'Oni Suergio, a Vincese inattività, a Furendindi, a Biu, a Biu, con i valori di una scant'euro, che viene detto su una capanna a cui si allogano i suoi abiti, già in preauso, con il suo estetto processato, con la nuova 10 mesi di ragione e finisce il suo pagamento di una contravenzione di 300 euro. Il suo abito è curato, con i suoi abiti e accessori in preauso. Gonesa, Lompidi, Dinaivo, su un uraghe, dei zerucci, su amministrazioni comunali, se sta giudicata 100 mila euro su dei dinai regionali, su emergenza archeologica, su dinai che era premiti di una insicurezza su giasso archeologico, più che tutto il suo corpus centrale su un uraghe, che vi era arrischiendi dei grolai, e ci vincese altri problemi di una insicurezza, ma di più su un uraghe, su un uraghe esti zerrao, già i brusso de un anno, de gandus esti primao, su cantieri atti ifras, sapuna desa amministrazioni comunali, e cosa che appustisi dessa sicurezza, ci sia da vincese sa possibilitari de do rai a overri su giasso archeologico. Andau su a Giba, Simps, Sistituto Nazionale di Vossa Previdenza Sociale, deniri, sapuna de zerrai, sufficio de Giba, in isanus de quattro dipendenti, si se l'ompio, andireni scetti uno, e fincese sorario de servizio, esistetio in Gruzzau. In un cesti s'interrogazioni de su consiglieri regionali de su Dici, Gianluigi Rubio, che pregontano un intervento de Viglia Ruvò, va in maniera, i Simps non trocerà un importante servizio, posso sulcesi de basso. Sarra uso con una noa de cultura, a Carbogna, su drinta de Donia Santu, Giovia Duncasa, a Isses, in sabilioteca comunale de Viale Arsian, ci resti sapresentare de su libro de Livi Former, oltre i confini de Indamur. Livi Former risponde da su nomini de Dina Usai, esti un autora sarda, che brusquetotto a Vivio in Milano, ma devago, sindetto rara, e a Sant'Antiogo, fai s'attività di descrittura, Giovia, ora presentai su libro, a s'appresentare, c'erassi Anna Lai, e in paia s'autora, vince s'assessora, a s'acultura del suo comuno de Carbogna, Sabrina Sabio. E questa vi era s'ultima noa, ho noas in curso de hoy, che si fa i precesi, lo roso a tovia i grazi. Grazie a tutti. Adios. Grazie a tutti.